Ciao a tutti, vi vedete così perché in realtà ho già cominciato a struccarmi, mi sono semplicemente bagnata le ciglia vado a finire quest'ultimo goccio di bifasico di biofficina toscana è un video così un po' per checchierare, proverò un prodotto con voi, vi dico cosa ne penso anche se in realtà c'è poco da dire e nel frattempo rispondo a qualche domanda, ho chiesto di farmi qualche domanda su Instagram meno male che mi sono ricordata di fare gli stamp perché non mi ricordavo che poi dopo 24 ore ovviamente sparissero insieme alla storia comunque sono tornata da un'oretta circa, sono stata ad accudire il piccolo Zoe, il piccolo Oscar, il gatto del mio fidanzato perché lì non c'è, ho già detto in un altro video che quest'anno abbiamo fatto vacanze separate per svariati motivi, però in realtà, d'essere sincera, questa cosa diciamo che non era preventivata, nel senso non era prevista in realtà alla fine come cosa non mi sta dispiacendo come idea, nel senso ogni tanto fa bene staccarsi completamente niente non mi è bastato il bifasico, passiamo al burro, sempre biofficina e anche lui prima o poi finirà quindi dicevo alla fine è giusto, insomma ci sta, voi cosa ne pensate? io sono felicissima di partire lunedì con... ah no non lo posso dire perché questo video lo metterò venerdì o sabato o domenica non mi ricordo, comunque lo metterò prima di partire, quindi non spoiler però sono contenta di partire insomma con un'amica allora dovete sapere una cosa, io forse per farvi capire meglio dovrei raccontarvi un po' le mie vicissitudini amorose e passate non entrerò troppo nel dettaglio perché non mi piace parlare di cose troppo private ormai lo saprete, però alla fine di alcune cose non so neanche più fine abbiano fatto le persone in questione quindi figuriamoci, non credo proprio che arrivino a vedere il mio video no vabbè non devo dire nulla di scandaloso no, in realtà è solo per farvi capire un po' la mia personalità io ho cercato sempre di... sì molto facile parlare così eh cioè più o meno ho cercato di farvi capire che tendenzialmente sono una con pochi fronzoli, si vede ehm... un po' burbera, insomma mi ritengo... sono un po' particolare sicuramente non sono la classica fidanzata che porti fuori a cena, che si fa pagare la cena e che deve sfoggiare chissà che cosa e che ha bisogno di... di chissà che cosa quindi diciamo che ho avuto delle storie un po' particolari di mio in generale eh... fondamentalmente, così non uso il tendenzialmente eh... fino a... all'età diciamo abbastanza adulta non ho avuto grandi... tante storie lunghe cioè storie lunghe fondamentalmente tranne una che risale al periodo di università sono frequentata con un tipo per circa tre anni allora che praticamente tutti sapevano che noi ci vedevamo ogni sera abitavamo tutte e due nello studentato universitario capisci a me? eh... eravamo sempre insieme, ammette insieme eccetera però non si doveva dire che eravamo fidanzati queste mentalità maschili perché non vogliono sentirsi dire sei fidanzato però di fatto alla fine facevamo esattamente quasi ti ho tolino il quasi tutto quello che facevano i fidanzati beh beh questi meccanismi comunque credo che ce l'abbiano il 90% dei uomini e mi sono mantenuta larga comunque vado a lavare il viso spumone comunque a parte quella parentesi di circa tre anni vabbè ho vissuto in modo un po' particolare poi ho avuto storie brevi fondamentalmente cioè proprio un periodo in cui non riuscivo a... non riuscivo io ma non solo io eh nel senso era un po' da entrambe le parti a proposito vi faccio vedere la grandezza del panne microfibra dell'essentista cinica a paragone con Human and Kind così vi rendete conto si sono su due lerci insomma sono stata per vari anni così con cose brevi due tre mesi massimo insomma frequentazioni brevi ci resta solo una di circa sei mesi ma... anche lui problematico cioè veramente li cercavo con... li trovavo con il lanternino veramente finché poi vabbè mi sono fidanzata con un ragazzo di... della provincia di Catania con lui sono stata due anni e mezzo circa sì tutto il periodo che io sono stata... ho vissuto a Catania praticamente però pure lui non è che sia ecco in quanto a palle per dirla proprio papale papale io fate conto che mi sono trasferita a Catania ecco questa va dalla racconta non me ne frega niente mi sono trasferita a Catania non per lui attenzione interrompo un attimo provo con voi anche se è la quarta volta che la uso questo prodotto che lo uso questo prodotto di Origins che ho ricevuto tramite Octoly me l'ha mandato me l'ha offerto l'azienda un prodotto strano perché allora è il mousse no mask mousse nettoyant praticamente è una maschera detergente foaming deep cleansing mask cioè praticamente è una maschera che pulisce in profondità non so come definirla praticamente da quello che ho capito io come si utilizza adesso il viso pulito che è più pulito non si può asciutto metto un po' di prodotto sulla mano tra l'altro è un erogatore stranissimo perché voi se tenete premuto lui continua a uscire la applicate nelle zone dove ovviamente desiderate una pulizia più profonda dice di non tipo di non massaggiarla quindi praticamente la tampono e sto ferma e lei agisce praticamente si comincia a gonfiare questa schiuma un profumo buonissimo tra l'altro vi dico gli ingredienti alte, verde, spiruline e spinaci è fico cioè è molto particolare adesso aspetto un po' insomma nel frattempo finisco di raccontare già che siamo in attesa non ha dei tempi di posa diciamo che la lascio taggire un po' e poi va a sciacquare dicevo che io non mi sono trasferita a Catania per lui sicuramente era una motivazione però la motivazione principale era il lavoro perché io lavoravo per un'azienda che aveva sito a Catania e le maggiori probabilità stavano lì perché c'era una nuova apertura insomma una serie di cose per cui insomma ho deciso di trasferirmi a Catania avevo anche comprato una macchina insomma tutta una serie di cose il fatto è che mi trasferisco a Catania io non conoscevo nessuno a parte lui nel senso avevo sì un paio di persone che conoscevo ma nulla di che è stato traumatico cioè io ho desiderato trasferirmi a Catania perché Catania mi piaceva tantissimo come zona però all'inizio i primi giorni piangevo anche perché non è come questo in generale quando cambi città però non è come quando appunto fai un trasogo da una casa all'altra ti porti le cose piano piano no io praticamente mi sono ritrovata tutte le cose tutte dietro con me mi ha aiutato per fortuna mia ex collega che mi ha aiutato con un furgone abbiamo caricato tutto da Palermo e l'abbiamo portata a Catania sono arrivata a casa lui è dovuto ripartire giustamente per tornare e io praticamente avevo la casa piena piezeppa di pacchi non avevo la più pallida dove avevo messo le cose quindi cioè sì qualcosa l'avevo scritto ma non ero stata così brava a segnare tutto e quindi avevo tutti sti pacchi con non lo so insomma mi sono messa a piangere mi ricordo il trauma di sta cosa ovviamente di lui nessuna traccia cioè lui quando mi sono trasferita là lui si è messa una paura fottuta come se io poi dovesse andasse a casa sua quando in realtà io avevo affettata la casa per i cazzi miei cioè lui non avrebbe dovuto fare niente però porca miseria sono appena arrivata almeno insomma non ho avuto molto sostegno da parte sua poi tra l'altro sono arrivata lì mi si erano consumate le pastiglie dei freni sta cosa non la dimenticherò mai anche lì panico per fortuna il mio ex direttore di palermo che era però di origini catanesi mi ha dato un nome di uno insomma all'inizio proprio panico totale pianti eccetera poi mi ero piano passato a quella crisi iniziale ma vi giuro mi è durata due tre giorni non di più ho iniziato ovviamente a lavorare quindi ormai avevo poi comincio a conoscere persone e quindi tranquilla comunque l'inizio è stato proprio pessimo ma io due anni e mezzo ci sono stata comunque poi vabbè diciamo le stesse storie che vi dovrei che vi potrei raccontare del fatto che per esempio no sapete cos'è il fatto allora io il motivo fondamentale per il quale prima di lui comunque non ero riuscita ad avere anche delle storie più lunghe tanti motivi ovviamente anche di pesi da me però il fatto che un ragazzo all'epoca ma in generale anche adesso all'epoca soprattutto avesse la mia età intendo magari già 25 26 27 anni la stragrande maggioranza di queste persone di solito viveva ancora con i genitori non era indipendente e insomma da questo dipendono anche tanti atteggiamenti tante cose io invece ero già abituata non dico emancipata però sì potrei anche dire emancipata ero abituata già invece a cavarmela da sola tranquilla quindi questa cosa a lungo andare ma neanche troppo lungo andare cozzava con il mio carattere il mio modo di fare insomma lì li percepevo tutti immaturi ecco fondamentalmente il problema era questo poi insomma ho conosciuto lui insomma diciamo che un po' non sono fatta andare bene per un periodo poi a lungo andare anche questo si è rivelato appunto un errore perché fondamentalmente il motivo della rottura è stato proprio quello una serie di atteggiamenti suoi che quando si incazzava spariva nel nulla dall'iPhone non risponde quella è una cosa che io odio profondamente ma da parte di chiunque non solo di finanziati comunque è sparito la prima volta dopo qualche pochi mesi hanno fatto la stessa cosa quella volta lì ciao e addio è finita lì pensate che vabbè è stato talmente infantile che le chiavi di casa mia che aveva perché vabbè veniva da me io avevo da sola lui ovviamente con i genitori all'epoca quanti anni aveva? 5 anni? no da 79 2 anni più di me quindi se io avevo 30 anni lui ne aveva 32 insomma comunque era abbastanza maturo ecco lavorava mi ha mandato le chiavi di casa per raccomandata non ho avuto neanche le palle di portarmene di persona vabbò per poi ovviamente tornare perché tutti e sottolineo tutti quelli con cui io sono stata per poco o per lungo tempo alla fine sono tornati sempre sempre comunque è il momento di togliere questa maschera si come vedete tipo fa una leggera schiumetta cioè quando voi la tenete un pochino l'avrò tenuta 5 minuti neanche il tempo ma avete visto si va a sciacquere via dunque insomma questo era giusto per raccontarvi qualche aneddoto così però fondamentalmente la cosa che io ho capito è che io credo di aver bisogno di avere degli spazi vitali miei personali che nessuno mi deve togliere nessuno mi deve toccare cioè ho bisogno di una persona che sia indipendente cosa che il mio attore fidanzato è assolutamente indipendente che sappia stare per i cavoli suoi così come io posso stare per i cavoli miei senza problemi quindi sinceramente questa cosa delle vacanze separate l'ho l'ho rivalutata e comunque in passato vacanze con fidanzati mai fatte cioè l'unica cosa che ho fatto con quello prima di questo è stata una giornata allora una giornata a Firenze andate e ritorno in giornata e una giornata alle terme basta mai fatte vacanze fuori con pernottamento ma anche di una notte per dire niente quindi diciamo che nella mia mentalità cioè per me per questo l'anno scorso con le vacanze per me con le ferie sono state importantissime sia proprio per un discorso vabbè che era praticamente come fosse la mia prima vacanza vera e propria e poi appunto avevano questo valore aggiunto sicuramente dato dal mio passato comunque luce liquida di serista cinica ah la maschera la maschera questa maschera mi piace perché lascia una bella sensazione non di non secca tanto cioè non vi sentite sgrassate tipo svelto e simili non so se non credo che costi tanto se non sbaglio su 18 euro dovevo valutarne diciamo i benefici a lungo termine quindi sicuramente ne riparleremo più in là la uso un piacere quello si diciamo che è una coccola molto piacevole quindi quello si è una coccola assolutamente però un po' indispensabile oh mio dio no siero con tornocchi The Puff Veralab e quindi insomma questa è la cosa voi come la pensate sulle vacanze separate c'è anche un'altra una mia amica che è fidanzata da tantissimi anni tra l'altro però vedo con piacere a parte che è sempre sorridente è una persona molto solare molto positiva e vedo che spesso e volentieri lei parte con amiche tranquillamente senza problemi giustamente allora voglio fare una prova a miscelare la crema zero rughe che è più pesantina diciamo la metto sul palmo e non ne metto tanta con il siero in modo da farla assorbire più facilmente allora la quantità di siero che io uso del Town Glow è questa praticamente forse anche meno infatti era troppo quindi la mescolo così la metto nella mano e le praticamente le miscelo insieme così magari non sui capelli per esempio me la spatascio così e da un po' di tempo comunque più loro male le creme le metto così proprio faccio sempre così con i palmi e le spalmo così in tre secondi netti né massaggi né niente che io tanto questa pazienza di farli non ce li ho vediamo adesso come si assorbe mi sa che le domande che avete fatto su instagram rispondono in un altro video perché questo video diciamo mi piace mi piace di più il fatto di aver affrontato un argomento ecco a sé crema con tornocchi zero blu comunque Bologna stupenda deserta cioè non nego che mi sta non nego che mi stia pesando credo di aver azzeccato stare a Bologna in questi giorni proprio di città deserta da sola cioè quasi da sola insomma qualcosa sono riuscita a fare comunque un po' mi è pesato però vi devo dire che stasera mi sono entusiasmata quando sono tornata a casa che sono andata appunto da Oscar la città era deserta temperatura esterna a 25 gradi meraviglioso proprio città deserta a un certo punto quasi arrivata quasi arrivata a casa su Radio DJ è partita una specie di playlist fantastica di canzoni una più bella dell'altra tanto che quando sono arrivata qua parcheggiato mi sono fermata in macchina ad ascoltare le canzoni perché era bellissima con questa brezza non marina purtroppo però meraviglioso veramente troppo bello allora ancora non si è assorbita però è molto molto meno appiccicosa di come la sentivo stesa normalmente ah stavo dimenticando il siero l'hashwood siero per le ciglia che non mi sta piacendo per niente lo scarico perché vedo che mi dà fastidio nel senso che ho l'impressione che a me dopo un po' mi dà fastidio l'occhio quindi proprio dove sono le ciglia quindi evidentemente sarà lui mi rimane da mettere solo la crema per il seno ma questa ovviamente la faccio beh che potrei anche farla voi non lo vedreste neanche però non mi sembra il caso di tastarmi le tette che già ce ne sono abbastanza di psicopatici e niente era un video per chiacchierare sul carmi con voi rimando le domande al prossimo video se avete qualche domanda in particolare lasciatemela pure qua sotto che magari approfitto nel prossimo video vi racconto insomma chiacchieremo anche di altro io spero che vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao all right ciao